Mugello è stata sempre la mia pista favorita dove ho vinto sempre un sacco di gare ed è stata però anche la pista che mi ha tolto di più diciamo perché nel 2010 ho fatto un errore nelle prove e mi sono rotto la gamba. Il problema più grande nel 2010 è stato dopo la prima gara in Qatar perché il primo infortunio che ho avuto nel 2010 è stato con la moto da cross e mi sono fatto male alla spalla. È stato un infortunio molto grave e soprattutto dolorosissimo. Secondo me è stato anche quello poi che mi ha portato l'errore del Mugello. L'infortunio della gamba sopra l'infortunio della spalla è stata dura. Sinceramente non ci ho messo tanto a tornare anche perché non ho mai pensato di smettere. Dopo 40 giorni sono tornato a correre con la grande soddisfazione di essere riuscito a tornare a vincere a Sepang in una gara difficilissima però quella mi ha dato tanta voglia di continuare perché comunque tornare in moto, essere veloce un conto, però ritornare a vincere vuol dire che comunque ce la puoi fare. Sepang era stato il giorno in cui Lorenzo ha vinto il suo primo mondiale e quindi io ero riuscito a batterlo, battere lui dovistioso e alla fine con una bella gara, una bella rimonta quindi era stata una bella soddisfazione. Tra l'altro era stata la vittoria numero 46 con con la Yamano e quindi era stata anche una vittoria storica. Grazie. 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 Grazie.